E' una cosa che ci chiede la Commissione Europea, dobbiamo ridurre le emissioni e Nissan si è dato un obiettivo molto chiaro, vetture solo 100% elettrificate. Quando si sta muovendo il mondo dell'elettrico, come reagisce la gente? Allora devo dirti Cristiano che finalmente con mia grande emozione la gente si sta approcciando in maniera propositiva al grigio. Tanto che mi manca il mio di me l'amorato, come lui si avvicinerà, cascherà a terra come una pera quarta, lo faccio arrivare ai miei piedi e una volta ai miei piedi ci scaccia la testa come se pende. E' la stessa carta, quindi bisogna solamente cambiare punto di vista. La maestà è una Sambuca, terza Sambuca, quarta Sambuca, quinta Sambuca, alla sesta il bambinista dice, ma che però ora ha vivuto assai. Che anzi, picchino che hai, non puoi vivere. Che picchi? Chi hai? Due euro e cinquanta. questa è tutta la corrispondenza che mi è arrivata mi faccio vedere una cosa ma che è sta cosa signora ma qua c'è scritto scusate potete zoomare un attimo ma qua c'è scritto IMS ma che è questa è la poletta della luce signora solo per voi buon divertimento buonanotte grazie ciao noi siamo ancora qui grandi risate esagerate perché in tv regaliamo emozioni evviva le televisioni zazzà grazie a tutti grazie a tutti